Ebbene amici fratelli della congrega, ripresomi così, siamo sempre anch'io usato della vita deprivato, del mio marasma non esistenziale Sto rivedendo, correggendo, no, già riveduta e corretta, c'erano due refusi corretta anche su Fintv, presto apparirà su Da Roma Biocinema è stata immessa nel mio sito la mia review di questo masterpiece perché tale è, con me medissimo di persona, frasando Totò nella scena della lettera di Totò Peppino, la malafemmina Opus del sottoscritto, opera di David Cronenberg Voi siete dei buoni operatori sociali o semplicemente operai quindi operate e fate l'amore con quelli che svolgono il lavoro di operatrici ecologiche Sono un uomo predestinato dai poteri cosmici, a volte tragicomico ma sorrendere, diciamo, le disgrazie, accadute voi, probabilmente qualcosa di magico, di estasiante, o se dire, di strabiliante potrei stupirvi con effetti speciali ma alla pari di questo film con il grande Chris Walken quest'uomo cristologico, quest'uomo che si risveglia dopo un profondo letargo e la sua vita non è più la stessa cioè questa è la storia della mia vita Anni fa incontravo una psicologo che addivenne alla conclusione che io fossi quel bambino e io dissi no, no, non è possibile lei non si può essere ridestato, diciamo, da un torpore dopo una fase, diciamo, di intorpidimento con la P Uomini poco torbidi questo, dopo essersi laureato all'ISEF mi confidò che era stanco di insegnare ai ragazzi a utilizzare il fisico voleva diventare un fisico, era uno psicologo e voleva praticare anale, no, psicoanale a tutte le ragazzine che nella sua scuola superiore voleva scoparsi questa è la verità, gliela dissi, si incazzò e voleva internarmi io sono uno che smaschera i bugiardi e soprattutto queste congreghe di vecchi ringoglioniti, rimbambiti che mi infestarono e cercarono di appestarmi di calpestarmi ancora continuano a calunniarmi ma non posso, diciamo, competere non conviene loro sfidarmi perché io sono dotato anche di oltre menzana e incorpore sano qui c'è una donna, Brooke Adams che non è un borracchia un borracchia lui piange disperato perché ha perso la donna della sua vita comunque quando il marito va via ci dà dentro Christopher Walken fu contattato fra l'altro da Scorsese prima di Willem Dafoe e dopo Robert De Niro però aveva il naso troppo lungo era troppo vecchio per interpretare Gesù Cristo per l'ultima tentazione non lo sapete ve lo dico io a proposi Scorsese quest'uomo che essendo di origini italo-americane che è successo scusate è saltato un po' tutto deve essere stato educato da queste famiglie cattoborghissi no? che volevano un figlio allora cosa andrei a fare nella vita il gangster e oppure ti darai ecco la mafia io non so che sia successo vedete interruzione di percorso proviamo a chiudere delle finestrelle facciamo una cosa riavviamo il sistema deve essere partito qualcosa spegniamo così alla brutta come si suol dire incidenti di percorso possono accadere ci si spegne come il pc vedete video in diretta e improvvisato tendiamo e riaccendiamo e attendiamo a chiudere o è l'attesa che vi posso dire che senso ha questo video tutto ha un senso